ciao amici il momento è difficile per tutti lo è anche per loro si stanno registrando tantissimi casi di abbandono cane allora io e zita con i suoi amici volevamo lanciare un messaggio chiaro loro non contagiano io sono martina lui e nate loro non contagiano ciao ragazzi io sono andrea lui holly e loro non contagiano ciao io sono maria grazia e lei è glizia la mia cagnolina stupenda e loro non ci contagiano ciao lei è belen e non è contagiosa siamo mauro e zoe loro non contagiano ciao ciao questo qua jack e non contagia buongiorno a tutti lui è lucio e non contagia ciao a tutti io sono giulia io sono nical e io sono papi puma non contagia l'unico contagio che ci può dare quello dell'amore salve io mi chiamo luciano e lui si chiama isma e loro non contagiano ciao 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 io sono raffaele questi sono i miei cani palla e lago bella e non trasmettono il virus ciao ciao io sono paola io sono papo lui è mare e loro non contagiano ciao io sono pillo lui e cesare loro non contagiano non contagiano io sono rebecca e io sono greta e loro sono pedro amelie wendy e desi e non trasmettono il virus io sono francesco lui è pago loro non contagiano ciao io sono giusi bianca luna e charlie e loro non contagiano ciao ciao lei è mia e non è contagiosa ciao sono elaria lui è cookie e loro non contagiano non abbandonateli